Si chiamava Nipsey Hussle, era un rapper americano e pensate che è stato fatto fuori domenica a colpi d'arma da fuoco fuori dal suo negozio di abbigliamento a Los Angeles negli Stati Uniti d'America. Altre due persone si trovavano con lui, sono state ferite durante la sparatoria fuori dal negozio chiamato Marathon Clothing, nella parte meridionale della città. La polizia ha fatto sapere che non ci sarebbero sospettati e che le indagini, vi ricordo, sarebbero ancora in corso. I giornali scrivono che una persona è stata vista scappare in auto da parcheggio dinanzi al negozio di Nipsey Hussle, ma per adesso non ci sarebbero altre informazioni. Il nome reale di Nipsey era in realtà Hermias Davinson Acedon, 33enne, l'adolescente ha fatto parte di una gang di Los Angeles, negli Stati Uniti d'America. Vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, vi ringrazio a Tresi per l'ascolto, datemi la vostra opinione e mi raccomando. Nipsey Hussle, riposo in pace. Amen.